Tra le fresche frasche, Country House Beatrice, tradizione e ospitalità di ingredienti principali del nostro locale. Vi proponiamo saporite tipicità marchigiane, come la pasta fresca condita seguendo le stagionalità, genuine carni locali e tante gustosissime pizze, preparate con ingredienti di qualità e cotte nel forno a legna. Ma soprattutto, cerchiamo in tutti i modi di coccolare e soddisfare i nostri clienti, per farvi sentire sempre a casa. Tra le fresche frasche, Country House Beatrice. Vale la pena venirci a trovare, anche per occasioni speciali o cerimonie. Siamo a Senigallia, in via Sangaudenzio 1, località Borgobicchia, vicino all'uscita autostradale.